La prima cosa che ho detto è che sono distrutto per tutti, per i giocatori. Sudafrica è più forte oggi di noi, a 17.3 dopo 42 minuti abbiamo fatto questa line break. È una cosa che è impossibile spiegare. La carta rosso e la partita è finita. Abbiamo perso due giocatori durante il primo tempo, abbiamo saputo prima la partita che ogni cosa deve fare perfetto per noi stasera. Ma a 17.3 abbiamo pensato se è possibile signare, solo mettere in loro testo un piccolo problema. Ma la carta rosso e la partita è impossibile dire una cosa a loro. Lui è più distrutto da noi. Non so cosa lui ha pensato a quel momento. La cosa per noi adesso è che rappresentiamo l'Italia la settimana prossima contro il New Zealand. È non facile. Abbiamo infortuni dopo la partita. quando ho visto, non voglio parlare per Sergio, ma quando ho visto i placaggi di Callum Brady, di Chelsea, di Jadon. La squadra è molto forte, ma è impossibile. Loro non giocano oggi, non hanno giocato oggi amichevole. È un knock-out. Non per Sergio, ma per tanti altri. È una cosa per loro devono imparare, perché ci sono tanti persone in campo che devono giocare a questo livello. e tu giochi in una partita come stasera due o tre volte nella tua vita. Speriamo che loro sanno adesso il livello. Ma la carta rosso, la partita è finita. È difficile, è duro. Lì per lì vedevo che il logo era ovviamente deluso, aveva capito che aveva fatto un grande errore. Quindi sicuramente avevamo iniziato bene il secondo tempo, sono d'accordo con Connor. eravamo 17-3, la partita non era ancora chiusa. Se in quel momento segnavamo, potevamo essere in partita e comunque magari creare qualche piccolo dubbio al Sudafrica, che oggi ha giocato benissimo, che non merita assolutamente la vittoria. Sono stati troppo più forti di noi, quindi sì, mi dispiace per l'Ovo. L'Ovo sicuramente è più dispiaciuto di tutti noi. Ma queste cose nella carriera di un giocatore credo che ti segnano. E sicuramente lui, anche di questa situazione che oggi per lui immagino sia terribile, e anche per la squadra, ne imparirà e sarà qualcosa che per il futuro lo aiuterà anche a magari non ripetere più un gesto del genere. Grazie. Anna. For the benefit of those of us who don't speak Italian, we were getting a translation there, but just so we don't misquote you or anything, can you just give your thoughts in English on the red card, whether you felt it was the right decision and whether you felt that you were lucky not to get two red cards, potentially? Yeah, potentially, when I saw it. That's what I radioed down, it could potentially be. But one was just a stupid act. We were quite calm at half-time, I mean we knew the power that was going to come, it was 17-3. We just said in some way don't chase the game. If we can get a score we might just ask a question, which is what you want. Everything had to go perfectly for us, we knew that, we're not stupid. We've done so much over the last while and we came into this match, I say full of confidence, confidence in what we could do and feel that we've really come on as a rugby team. But you plan for a lot of things, you don't plan for that. And, you know, Lovell is... Andrea is probably more destroyed than us, but we're all pretty destroyed. But then what I did say is, you know, you look at the... some of the... against the odds, yeah, people look at Mateo Minotsi throwing the ball away, but that's wrong to look at that. I'd look at some of the work rate he had and get him back to make tackles, Callum Brady's tackle and Chelson Colby, when we could have scored a try and the boys never stopped fighting, but the game was done. At 17-3, if we'd scored, you ask a question mentally somewhere in the back of someone's head and you have 15 players on the pitch, but we never got to ask that question. So, they're an outstanding side. This wasn't them coming to play Italy in a friendly, in the autumn. This was them coming with us standing in their way and we know they're an outstanding side and where they've come, but you can't play with 14 men for 40 minutes against that. You just can't. And that's when you're decision-making in the second half. But our boys fought. I'm just destroyed at the moment, really. All the planning, all the work. And we didn't get a chance to show our true worth in that second half. But that's life. That's the life you live in sport. Any other questions? Conor, Gavin Coomsky from the Irish Times. Your point well made about how the game was gone, but where does that South African team rate with all the Six Nations teams you've faced, with all the opposition you've come up against this year? Thankfully, Gavin, I don't have a stand in front of them. They are massive. They're powerful. We knew that, but you know it's coming. So, you know, they've got X Factor in people, you know, out the back as well. And when that power gets on their front foot, and I think Sergio would agree in the first half, you know, the wave, the wave. But we look at our execution in terms of our discipline to exit in the right way, because they are very structured. So, you know what's going to come back at you until they get that power going. So, where do they rate? Potentially one of those powerful sides I've seen on a rugby pitch, when you look at the changes they make and the explosivity they have. So, they're going to be very, very difficult to stop. And, you know, their match against New Zealand was a lot tighter probably than people, you know, whatever, 27-17. But, you know, it hinged on moments like all these big games do. So, they're going to be formidable. I'm just disappointed for us because we've come so far and we've got a lot of young guys who'll be so much better for playing in games like that. You can't buy experience. I know Sergio has a lot of it, Nally's Annie, but there's so many guys out there and that was an atmosphere and a day that they should only learn and get better from once they get over that disappointment. But South Africa are powerful. We've got time for two more. Take in the middle here. Sorry, just behind you. Sorry. Allora, due domande. Una per, se possibile, per Sergio, una per Conor. La prima per Sergio è questa. Avete comunque giocato con un grandissimo coraggio, avete dato tutto. Però, al di là dell'episodio della storia di Lovotti, mi è sembrato che nella prima parte della partita comunque la differenza era evidente anche proprio fisicamente nei duelli individuali. Allora, la domanda è era possibile ragionevolmente pensare che il confronto con Sud Africa possa andare diversamente o comunque ci si deve rassegnare a una differenza così grande tra i due movimenti. E per Conor, allora, la domanda è a maggio scade il suo contratto con l'Italia. Volevo sapere se c'era un motivo per cui non rinnova il contratto e se un altro risultato oggi avrebbe cambiato le sue prospettive. la differenza tra Sud Africa e noi lo sapevamo prima della partita che c'era una differenza soprattutto tra le due squadre dall'aspetto fisico soprattutto e soprattutto perché il Sud Africa in questi ultimi due anni stava giocando un grande rugby però le partite si devono giocare. Oggi erano 80 minuti ed era una partita da giocare. Prima anche dell'episodio di Lovo abbiamo sofferto sui drive e sono stati veramente molto performanti sui drive e noi non siamo stati in grado di fermarli. e ovviamente in difesa sono venuti con molta aggressività. Noi purtroppo alcune volte non siamo andati a placare così bassi siamo andati un po' troppo alti in alcune occasioni e quindi abbiamo dato sempre dei palloni con avanzamento quindi Sud Africa ma anche qualsiasi altra squadra al mondo in avanzamento è più forte e nonostante tutto credo che sicuramente la difficoltà di perdere due piloni nel giro di 20 minuti ma non sono alibi. Sicuramente abbiamo prima del cartellino rosso di Lovo abbiamo dato delle tush, molte tush per loro nei nostri 22 ovviamente non faceva parte dei nostri piani volevamo calciare e non dargli tush quando magari commetti dei falli a metà campo ovviamente loro hanno deciso di andare in tush perché effettivamente in tush sono stati performanti sui drive ma la partita era ancora lì il 17-3 non era finita e credo che la squadra ha reagito bene nel secondo tempo abbiamo calcio in vivo calcio non riceviamo palla teniamo la palla break eravamo in una situazione dove una meta lì o anche tre punti lì subito dopo ci faceva stare in partita e si parla spesso, parliamo spesso di momentum dei momenti della partita sono quei momenti lì dove sicuramente questo cartellino rosso a prescindere che sia stato non discuto neanche l'azione un cartellino rosso in quel momento dove ti trovi in avanzamento dove sei là e dove inizi bene il secondo tempo sicuramente mentalmente ti taglia un po' le gambe poi la partita è stata ancora molto lunga e onestamente questo Sudafrica è una squadra veramente forte veramente forte con giocatori veramente come Colby che è straordinario un po' su tutto palle alte, bravo, placca, corre veramente un grande giocatore Onestamente stasera non voglio parlare io credo in tutte le cose che abbiamo fatto durante le scorse due, tre, quattro anni io credo in i giocatori e la nuova profondità nei giovani che abbiamo per il futuro ma ho parlato con la federazione e con Alfredo in giugno della mia situazione hanno detto che vogliamo parlare dopo il Mondiale la sola cosa che io voglio e le cose giuste e il proprio passo per l'Italia perché abbiamo fatto tante tante cose buone sono orgoglioso di tutti perché giochiamo sempre all'altissimo livello abbiamo dimostrato durante le scorse due settimane abbiamo un'abilità abbiamo i giocatori ma questo è il livello stasera e il livello noi vogliamo non solo in due, tre, quattro ma dobbiamo lavorare per questo e sono sicuro che i primi passi abbiamo fatto durante le scorse due o tre anni per creare la giusta struttura e l'ambizione e il sogno che abbiamo anche per il Rugby adesso sono un po' distrutto perché il piano non causa successo stasera grazie 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 grazie